Intanto io spero che sia convocato quanto prima un tavolo con tutti gli attori interessati al tema e alla crisi dell'Ilva, un tavolo a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio e auspico ovviamente che si possa formare un'unità di crisi permanente insediata alla Presidenza del Consiglio. La mia opinione è che a questo punto di fronte a ciò che emerge da svariate inchieste bisogna separare la sorte della famiglia Riva e la sorte dell'Ilva. Per salvare la fabbrica, per far partire con serietà le bonifiche e i processi di ambientalizzazione bisogna stromettere la famiglia dalla vicenda Ilva. Credo che l'amministrazione straordinaria sia la formula che consente un vero e proprio commissariamento. I Riva non penso che possano essere mai più considerati interlocutori, soprattutto in una fase in cui è necessario numero uno rispondere alla domanda di salute e di vita che viene da Taranto e a partire da questa esigenza salvare l'azienda, la fabbrica, i posti di lavoro.